Musica Oggi vorrei parlare di un fenomeno che in questi giorni sta un po' spopolando sull'internet Principalmente su Youtube America ma diciamo che un po' la notizia si è evoluta in modo internazionale Ecco, come vedete bene sul mio sfondo, sperando che si veda bene, siamo sul canale di Nikocado Avocado Per chi non sapesse che Nikocado Avocado è uno Youtuber che fa Macbang Il Macbang sarebbe lui che mangia davanti alla videocamera banalmente dei cibi abbastanza pazzeschi Solitamente mangia delle robe abbastanza abbondanti, ok? Come tanti nudo spiccanti o paninazzi del Mac o robe simili fino a esplodere E tutti sappiamo chi è Perché comunque è sempre stato un fenomeno che su Youtube ha spopolato abbastanza Un po' per le sue reazioni molto particolari col cibo, piangendo, urlando, facendo un po' delle scenate abbastanza importanti E anche perché purtroppo soffre di un'obesità abbastanza importante, ok? Per oggi vorrei soffermarmi su questo piccolo video che mi ha sorpreso abbastanza, che ho scoperto Completamente a caso, girando sul nome di Youtube, mi è comparso e ci sono un attimo rimasto Nikocado Avocado esattamente due giorni fa carica questo video che si chiama Two Steps Ahead In questo video vediamo un Nikocado Avocado, diciamo dimagrito, ok? Come dice nel video ha perso una roba come 100 e passa chili, ok? Tipo un 113 chili perché in pound erano tipo 200, mi sa, e torri a son 113 da quello che avevo cercato E vediamo un Nikocado Avocado calmo, in un certo senso, un po' come i vecchi video Perché si ricorda il vecchio appunto Nikko, lo chiameremo Nikko per simpatia È sempre stato una persona abbastanza calma, no? Una persona abbastanza calma dove lui mangiava tranquillamente dei cibi, parlava Comunque aveva sempre questa calma, questa simpatia anche Comunque una persona abbastanza vivace a vedere così Però era sempre molto calmo nei suoi video Appunto negli ultimi mesi, ma o mai anche anni, se vogliamo dire così Perché anni sono passati, è cambiato abbastanza Oltre ad essere abbastanza ingrassato, è diciamo diventato abbastanza un meme di internet E questa cosa sicuramente lui l'ha notata Ma in quest'ultimo video ce lo fa capire molto bene Perché per chi l'ha visto sa benissimo di cosa sto parlando Ed è un fottuto genio, letteralmente Lui non registra video da due anni Tutti i video che abbiamo visto fino ad adesso erano pre-registrati comunque E oltre ad aver perso tutti questi chili Infatti complimenti a lui, cazzo, in questi mesi, anni Ha fatto tutto ciò come esperimento sociale Non ho ben capito per capire cosa, sinceramente Perché non ho ben capito Mi ha fatto un botto paura Non so, mi sembrava come se lui sapesse già tutto su tutto E il fatto che appunto tutti i video che abbiamo visto erano pre-registrati E lui appunto non registrava un video da due anni È abbastanza assurda questa cosa Il fatto che lui si comporti in questo modo nei video Comunque come era prima Era quasi una sorta di lo faccio apposta Per vedere come reagisce il pubblico a questa cosa, ok? E sinceramente è geniale in un certo senso Ma fa anche un po' paura Perché lui si è impegnato in questa cosa E adesso è tornato al punto di partenza in un certo senso Dove appunto adesso è messo bene Si è sistemato fisicamente E a quanto pare tutte quelle cose che abbiamo visto Dei suoi comportamenti erano quasi voluti, no? Ma in un certo senso ci avevo mezzo pensato a questa cosa Ma penso un po' tutti Cioè tutti ci siano detti la fatta apposta Io ovviamente dico ciò Per quello che penso io Ovviamente non so cosa giri nella testa di Nico Cardavocado E non so neanche se esattamente nel video ho detto quello Perché l'ho visto una volta Barra 2 Mi sono ascoltato le prime paroline Dove parlava di robe strane Della gente, ecco Del suo, del pubblico in generale Ho detto no, ok? Devo assolutamente farci un video per capire come Per parlare di questa persona, ok? E comunque in due giorni Totalizzare 31 milioni di visualizzazioni Ed essere primo in tendenze Vediamo se è ancora primo in tendenze Ok, non è più primo in tendenze Ha rotto internet Questa è una di quelle cose che succedono ogni tot Di persone che Boh, ad un tratto Rompono internet con un semplice video Come per me Almeno personalmente Poteva essere PewDiePie Tempo fa Con la sua trasformazione del fisico, no? Che per una foto girata su internet Diciamo tutti erano mezzi impazziti Perché era diventato abbastanza fisicato E quindi tutti E sinceramente È astrale questa cosa Ma la cosa che mi fa ancora più riflettere Di questo fenomeno È il fatto che lui Nel video Non questo che sta andando Questo è il secondo canale Perché ne ha fatti due, ok? Parlava di Come se tutto fosse Un brutto sogno, no? Come se lui stesse appunto Dormendo in tutto questo tempo Finalmente si sia svegliato E questa cosa qua È una cosa abbastanza stanna Beh, comunque Lo vediamo molto cambiato Rispetto a prima Prima era una persona molto più Era molto più scattante Iperattivo quasi Aveva delle movenze comunque diverse Aveva un modo di fare molto diverso Rispetto a come lo vediamo Esempi in questo video Che è molto pacato Calmo E tranquillo Anche dalle espressioni che fa Da tutto Ed è una cosa stranissima Un fenomeno molto strano Perché sono in confusione Tra o l'ha fatto veramente apposta O ha veramente avuto un periodo In quel modo E poi ha fatto una transizione Abbastanza importante Ma contando che questi video Li ha tutti registrati Nell'arco di 8 anni E per 2 anni Non ha registrato video Mi fa un po' riflettere Sul fatto che Ovvio, sì Ha registrato Una quantità industriale di video Per caricarli Senza che nessuno sapesse Che effettivamente Questi video Sono stati pre-registrati Ok? Anche perché li caricava sempre A distanze abbastanza importanti Comunque l'ultimo video Prima di questo È stato caricato Più di 3 mesi fa O più di 2 mesi fa Non ricordo esattamente adesso E quindi ha avuto Un bel periodo Di no caricamenti Ma se andiamo a vedere Esattamente Se andiamo a vedere Esattamente Gli ultimi caricamenti Sono tutti Video caricati A distanza di 2 o 3 mesi Questo esempio Il penultimo video Prima dell'ultimo Sette mesi fa Dieci mesi fa Un anno fa Ok? Quindi comunque Ha tenuto Diciamo un ritmo Abbastanza lento Per starci dentro In questi contenuti Ma la cosa che più Mi turba anche È pensare al fatto Che probabilmente L'ha fatto anche Con gli short Con i tiktok Questa cosa qua Ok? E lui caricava Abbastanza short E il fatto che lui Per due anni Non abbia caricato il video Non abbia caricato il video È come se lui Già sapesse anche Il fenomeno Di come magari Serebbero esplosi Gli short Adesso non so esattamente Quanto Ma quanto Gli short esistono Però Cioè Tutti questi short Che lui ha fatto Hanno fatto un bordello Di visual È diventato Un meme virale È diventato Una persona Molto importante Per l'internet Anche più di prima Perché prima Era un McBunger Qualunque E poi è diventato Un McBunger Odiato Amato Diciamo La gente Provava Provava pena Per lui Se cercate Nico Cato Avocado Ci sono Trentamila video Dove la gente Parla Del suo fenomeno Dove gli dicono Che sta rischiando La vita Ha fatto dei video Con un respiratore Al naso Ok? Perché diceva Che aveva problemi Respiratori Robbe simili Cioè Robbe comunque Abbastanza Fuori di testa Che però La gente Ci credeva E io sono in confusione Se crederci o meno In questo caso Perché non è Effettivamente detto Che Quei video lì Erano tutti Meme Ok? Quindi Il mistero c'è Questa persona Sicuramente Ha una Grandissima mente Ha una Voglia di Sperimentare Il pubblico In una maniera Pazzesca Ed è una cosa Che ammiro tanto Ma è anche una cosa Che mi spaventa Abbastanza Però effettivamente Chi poteva farlo Oltre a lui No? Comunque È un grande fenomeno Che ha fatto riflettere Molto l'internet Ha fatto parlare Molto di sé Ok? E quindi ha cavalcato Questa grande onda Dell'odio Quasi Odio e amore Un po' una cosa Su una bilancia Che si bilanciano Un po' va sull'odio Un po' va sull'amore In un certo senso Perché la maggior parte Della gente Lo piava per il culo Che parliamoci chiaro Però lui tranquillamente Ha editato la schivania Sapendo benissimo Queste cose Cioè In questi due anni Ha avuto il tempo Di fare questa transizione Intanto caricare questi video Che magari non rappresentava Neanche più Il lui di adesso E questa cosa mi fa Ragazzi Che dire Io volevo un po' parlare Di questo grande fenomeno Anche perché è un po' L'argomento di punta Di questo periodo Su YouTube Vorrei un po' sapere la vostra Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di questo fenomeno Ovviamente Ovviamente Non sono una persona Che si va A cercare 3 mila notizie Sulla persona Per fare un video Dettagliato Dico semplicemente La mia Conoscendo un po' Il fenomeno Ovviamente Lo YouTuber in sé Perché lo conosco Da un bel po' Mi ha stupito abbastanza Questo video Volevo un po' Condividere questa cosa E parlare con voi E niente ragazzoli Noi ci danno domani Con un nuovissimo Daily fucking vlog Vi voglio un mondo di bene Spero che la vostra giornata Si mandò al top Ciao